L'assessore regionale Cristiano Corazzari ha espresso profonda preoccupazione riguardo la drastica diminuzione della produzione di vongole nel consorzio di Scardovari, evidenziando un crollo del 95% rispetto ai livelli ordinari dovuto all'invasione del granchio blu e alla sua voracità. Questo declino si verifica proprio nel periodo delle festività tradizionalmente caratterizzato da un picco di produzione di vongole. Corazzari ha sollecitato nuovamente a Roma il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale, sottolineando l'importanza di questo passo per ottenere il sostegno necessario dal governo, in particolare attraverso l'attivazione degli ammortizzatori sociali straordinari per il settore della pesca, fortemente colpito da questa crisi. La Regione del Veneto ha già stanziato risorse eccezionali per le imprese ittiche, inclusi fondi FEAMP di oltre 12 milioni di euro destinati alle imprese della pesca e dell'acquacultura venete, che saranno disponibili nelle prossime settimane anche per i pescatori del Delta. Oltre a ciò si è lavorato per ottenere ulteriori fondi, ben 14 milioni di euro, specificatamente dedicati alle lagune del Delta. Queste risorse derivano dall'accordo sui fondi FSC, sottoscritto di recente dal presidente Zaia con la presidente Meloni. Corazzari ha enfatizzato l'importanza di sostenere i pescatori non solo attraverso risorse finanziarie, ma anche con interventi diretti sul territorio. Si è proposto di intervenire nella gestione delle lagune con interventi di scavo e vivifiocazione, nonché di fornire supporto per l'acquisto delle attrezzature necessarie per la pesca del granchio blu e il contenimento del problema. Il settore della pesca è vitale per il Delta, coinvolgendo circa 1.500 operatori nelle lagune di Scardovari, Barba Marco e Canarin, con un indotto economico che si stima raggiunga centinaia di milioni di euro. La prospettiva è di mantenere viva e fiorente questa attività per garantire un futuro solido al territorio regionale. Da Naima, la profumeria in corso del popolo a Chioggia, trovi più bei regali di Natale, profumi chic, linee beauty per lei e per lui, per dare risalto al tuo fascino. Su tanti cofanetti avrai il 30% di sconto e ogni giorno una sorpresa dedicata alla tua bellezza. A Natale, chi ama, sceglie Naima. Naima, la profumeria in corso del popolo a Chioggia. A Natale, chi ama, sceglie Naima.